Yeah, bene, siete dei grandi ragazzi, un applauso a voi, yeah, bene, adesso facciamo un altro pezzo Super Fantasy che abbiamo preparato per Luca, ormai lo portiamo in giro, ci piace, ci divertiamo, cantano tutti tra l'altro, vero? Siete pronti? Prontissimi, bene, cantate anche voi. Fusate! Siete pronti? Siete pronti? E' un'altra cosa, ma non è un colore, non è la cosa A più di un colore, non è un colore, non è un colore Non è un colore, non è un colore Oh! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie!